bella tutela, ci sono uno in cui ci sono tutela lì, speriamo come chiudere gli occhi ci sono solo due modalità, con mani e senza mani, ok, iniziamo allora, si fa così e si fa così così tuc, 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 la stessa cosa da con l'altra uno, due, tre, quattro, andiamo più vicino così vedete meglio così, mettete qua sulla cosa rosa, giù uno, due, tre, quattro uno, due, tre, quattro, poi senza mani si usa il pensiero per il pensiero dovete pensare di mandarle giù pensate di mandarle giù e andando giù uno, due uno, due uno, due si va due, tre quattro ok, lo metto tutto ai verci